grandi sfide all'interno di qualunque organizzazione per andare a recuperare un sacco di efficienza e di produttività e cercare il più possibile di automatizzare i processi automatizzare i processi è qualcosa di estremamente complesso oggi il mercato richiede sempre più soluzioni personalizzate richiede di dare risposte intelligenti che quindi nascono da un ragionamento della persona pertanto pensare di impostare un sistema che è automatico faccia ogni fase è praticamente impossibile la nostra più grande sfida con tuerpi è stato quello di mettere in condizioni l'utente di poter operare in maniera il più veloce possibile in maniera più guidata possibile su determinate attività che sono sistematiche all'interno del processo a titolo di esempio prendiamo un processo molto standard di tipo commerciale che può capitare in qualunque tipo di organizzazione ma il medesimo ragionamento possiamo farlo su qualunque altro tipo di processo allora in questo caso ad esempio il processo prevede una richiesta da sito una chiamata di approfondimento per dettagliare maggiormente quanto la richiesta da sito ha fatto c'è sarà poi un incontro commerciale una demo dipendente dal vostro tipo di business che riguarderà una figura più strategica di tipo commerciale per la nascita di un'offerta questo è un processo molto semplice standard nella realtà dei fatti se proviamo andare un pochino in profondità ipotizziamo che giorgio che il cliente potenziale ha fatto una richiesta da sito anna che al back office cosa fa anziché chiamare direttamente il cliente decide di programmare una chiamata di approfondimento inviando al cliente una proposta di data quindi io vorrei sentirti domani a quella determinata ora e qualora il cliente dia questa conferma fissa la chiamata per commerciale maurizio piuttosto che nel momento in cui non viene data la conferma appunto fa una riprogrammazione questo tra il resto è un tipo di processo molto delicato a livello commerciale perché evita di far arrivare una chiamata a freddo al cliente che è vero sì che ha fatto una richiesta però al tempo stesso in quel momento potrebbe essere occupato infastidito e tutta una serie di situazioni che si generano allora proviamo a vedere come tu appi nella modalità automation riesce a supportare l'azienda nel far sì che questo processo sia il più automatizzato possibile allora innanzitutto la richiesta da sito deve poter far arrivare automaticamente in questo caso al back office due cose da fare immaginatevi come una sorta di checklist questo è completamente automatizzabile quindi io posso fare in modo che al sopraggiungere di una richiesta da sito ad esempio via mail anna si trovi di dover inserire il contatto la creazione della pratica eccetera eccetera contestualmente alla mail di richiesta oltre che andare come secondo tipologia di incarico a programmare la chiamata che potrà portare orientativamente 30 minuti di tempo come slot di tempo a calendario e quindi si trovi automaticamente nelle proprie cose da fare questi due incarichi già con una precisa scadenza cioè oggi voglio che questa cosa venga fatta contestualmente lo stesso giorno della richiesta da sito bene fatto questo cosa fa anna entra nel calendario verifica la disponibilità di maurizio che si dovrà occupare di fare questa chiamata ne vede la disponibilità e ora che cosa fa invia tramite un modello mail è inutile che anna vada a riscrivere per la duecentesima volta la stessa email magari scritta in modalità diverse una volta dall'altra magari non allineate alle guida del marketing o le guide dell'azienda e allora cosa fa tu eppi mette a disposizione una serie di modelli email di processo quindi questi sono i modelli email che vengono utilizzati per il processo commerciale perché stiamo parlando di una richiesta da sito se stessimo parlando di una richiesta di assistenza di una richiesta da parte del cliente di qualunque altra cosa di un processo amministrativo i modelli email saranno contestualizzati al tipo di processo quindi anna si trova già i modelli più o meno nella sequenza corretta in cui andranno utilizzati quindi scegliendo il corretto modello si trova pre costituito un messaggio dove lei può andare poi a farne le modifiche in questo caso vado a porre quando avrebbe previsto di chiamare il cliente ma soprattutto la cosa molto interessante è che possono essere inseriti dei pulsanti di feedback interattivi dove il destinatario anche senza naturalmente avere tueppi può interagire con questi pulsanti semplicemente premendoli per comunicare il contenuto dei pulsanti possono essere inseriti dei link naturalmente del modello quindi può essere un modello mail prefatto dove vado di volta in volta a farne delle piccole personalizzazioni quindi anna in questo caso manda la mail e naturalmente l'automation in questo caso mette in condizioni di anna non di dimenticarsi di questa cosa ma crea in automatico ad anna un incarico come dire sei in attesa di una conferma da parte di questo cliente noi non sappiamo quando il cliente se confermerà innanzitutto l'appuntamento magari potrà anche non rispondere quindi metterà in automatico il sistema un incarico tramite la funzione automation anna sappi che sei in attesa di questa mail che hai mandato di un'attesa di conferma sempre nella lista delle cose da fare di anna che semplicemente con un click nel momento in cui questa cosa si verificherà potrà andare a completare come tipo di incarico ora che cosa succede succede che in questo caso il destinatario ha premuto conferma appuntamento premere questo pulsante viene tracciato in maniera indelebile nella chat ma in più genera una cosa importante cioè genera un incarico quindi premere il pulsante da parte di un utente esterno genera un incarico ad anna dicendoli aggiorna i dati dell'appuntamento quindi inserisci fisicamente l'appuntamento di tipo chiamato da maurizio perché il cliente in maniera estremamente diciamo delicata anche come tipo di processo ha confermato che quella data e ora gli va bene non abbiamo ancora sentito il cliente però abbiamo già iniziato ad interagire con lui in maniera veloce ordinata e organizzata tale per cui anche la percezione da parte del cliente di un'azienda strutturata indipendentemente dalle dimensioni aziendali ora cosa succede anna fissa la chiamata nel calendario di maurizio e il sistema in automatico mette già ad anna di rendicontare eventualmente il contenuto della chiamata post appuntamento perché nelle decisioni aziendali di automazione maurizio ha deciso di lasciare due appunti e fare in modo che anna poi scrivi un breve resoconto al cliente di che cosa si sono detti durante la chiamata questo pezzo di processo come vedete ha richiesto comunque la manualità da parte delle persone nel scrivere la mail in termini di personalizzazione nel completare l'incarico però il sistema in automatico li ha messo davanti gli strumenti necessari per far sì che questo processo sia il più guidato possibile questo immaginatelo applicati a tantissimi altri processi andate a vedere il video di alcuni best practice che abbiamo realizzato in termini di automazione potrete capire come anche nella vostra azienda che è un'azienda sicuramente particolare dove i servizi che offritte sono molto personalizzati si possono andare a trovare un sacco di situazioni dove il processo può essere automatizzato con tu app vi aspetto nei prossimi video Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti